dai su cominci stiamo aspettando voi dai basta contro abitante abitante orso e uccello contro essere umano aspetta quindi cosa fa cosa fa mio dio ma è button check o? ok non è button check Paul gli piace sprecare le mosse vediamo ricordiamo che è il vincitore di questo set ma in porto dal lato loser ma sto cucchiaio all'inizio pensavo fosse riflesso è storco vediamo ogni situazione abbastanza even devo dire ogni wonder wing che sbaglia posso chiamare paolo al telefono no perché paolo correntemente non disponibile vediamo situazione off stage oh lo prende con un colpo del ah ancora fessore wonder wing è connette quindi niente si pierre tra l'altro c'è un altro posto buono buono si si esatto cerca la grab due volte sullo stesso punto oddio ma siamo ancora ammazzato non è stata una buona idea ogni volta che si mi stream si esatto si esatto ma io dico che è colpa di polefish non mi è comunque ancora andiamo 69% ma l'ha kick vediamo vediamo l'ha kick di nuovo tiene in aria e cerca di unire non lo so guarda vista la bomba con un po' l'inno è un po' l'ho che è un po' l'ho che è un po' l'ho che è un po' l'ho wonder wing che è reale devi stare un po' più attento a se non è gastroman perché sta sempre troppo vicino e non è un po' di più e invece c'è sempre mille range dove non fa io vuole il banjo cosa fa? cosa fa? vedi che vuole farmi bere il tè? ha fatto una cazzata allora castromen adesso deve vincere adesso si adesso se non vince castromen gli butti il table 1 non farlo non farlo anche perchè so che vince l'intangibile grande castromen vediamo vediamo ottima combo da parte sua stilt lo stecchetto non è male come una boss nutter si è kill non nessuno se lo aspetta ma le finti di kill c'è kill una battuta oh dovrebbe grabbarlo si però lì si per poco ha sbagliato la giida la metro e per poco non c'è malta vediamo vediamo ultima fionda adesso sta molto giusto che stanno male si è nel range si vede che il suicidio di Paul l'accesa il suicidio di morale si sta nel range si deve stare attento quando innacchia si si perchè due volte l'ha fatto e due volte ci ha mortato dentro niente niente ha preso la tabocca si vediamo vediamo se si riesce a ripaltare la situazione ora puoi chiamare Paul al telefono scappa si ora la puoi chiamarlo no non è vero non puoi chiamarlo perchè si interrompe il flow del match vuole il flow del match ancora il flow del match c'è nel senso che iniziamo a vedere playvere ottimo allora allora telefonagli no c'è comunque perchè Paul ha un non ha un pessimo banjo Paul ha un furry no Paul non ha un pessimo banjo poi fa ste cose eeeh suppongo che ci pensi prima di farle secondo me non ci pensa perchè lui gioca come mi pensa tanto io faccio finta che l'avversario sia stupido e quindi provo le cose però non funzionano perchè l'avversario è il più delle volte intelligente vanno su unimo si picca interessante e cioè dire che secondo me vinta abbastanza banjo al ledge sono un eroe oh magone abbiamo bisogno di un eroe oh ma cos'è sto match cos'è cosa fa ha scelto ha scelto l'autismo vediamo se riesce a fare con il eroe ma secondo me farà tipo kamikaze banniamo 3 2 1 top deck kamikaze andiamo eeeh vabbè l'esclusione c'era bello vediamo vediamo anche rude si usa spesso anche rude focus focus uffs è pazzo non gliene frega niente è pulpi perchè non vede qualcosa che può che animale è alto fuori è il valgunga qui è l'orso of trial ci fatto c'è anche un psycho quindi dovrei stare molto a tempo siiii e se critica proprio per finirlo ha lo zoning di eeeh mamma mia bravo c'è la situazione è molto difficile adesso perchè Gapio Castro sta vincendo anche se c'è adesso però adesso la situazione è veramente invertita si dove provare secondo me Castro a fare austro ma la soluzione quale perchè non lo può stare lì fermo ecco adesso puoi fermare Paul vuole fare il furbo con quelle cacciate ma non sa che così non ci arriva un po' poco salute ti raccomando ragazzi la salute è sempre la priorità nooo dai sempre bannato però è un pg fan era a 90 dai a 90 c'è tipo un 50% dei costumi italiani fa un culo ma un 50% non vale niente se è sotto a 70 se è sotto a 70 dovrebbe missare l'arena e infatti a 90 era no no non il 70% la percentuale che entri non siamo su fai render con il PG doppio fa un culo l'RNT comunque scherzo a parte mi piace non lo dirà a me piace non lo dirà sulla pg mi piace è bannato anche lui vediamo qua ha sbagliato comunque lo sta lo sta volando molto molto bene adesso bello qui però ah non siamo su fai render eee no no purtroppo no però in effetti bello le spade non mancano quindi puoi dire che sia per le magie ci sono ok quindi se non poi la sposa o la mashup perchè lì non c'è più dove vanno l'abbia finessa non c'è più no no la mossa comunque se si la mette tanto di wak ma kaboom è la mossa peggiore ok è quello che ti fa l'esplosione gigantissimo che ti scopi poi la seconda poi la seconda tra tutte le mosse di rod del visione romand eccolo lì è la migliore è la missata no perchè magic cioè magic per si può dire che sia però magic card non è invincibile ecco ecco però ha sbagliato la lega eh è la finca forte e molto ciccione adesso lo prende è morto no ha sbagliato la fuck the cazzo adesso ho fatto nientro adesso ho fatto nientro Sì, però non quando sei a zero. A zero è sempre un cascetto. No, la sua vente quindi è... Beee! Molto! Dai, Paul, perdi il trucco al set. Ora chiedi lui ci tirerai fuori, pianta? Final... No, comunque è stato un match strano. Certo. Però alla fine, nonostante queste boiate... L'errore di Paul è stato prendere errore. Sì. È stato un osculare il trucco. Eh, non so. Non so fare il tuo atto. La prossima volta qua si fa a 20%. No, a 40. A 40 c'è già un 10% diciamo. 40 è troppo, 20 è la percentuale perfetta. 40. Stavo giocando l'altro giorno con Master Romy. Sì. E... Lui usa anche eroe, lo sai, no? Sì. Lo so. E molestissimo. E... Eravamo lì, eravamo una stock pari. Tutto even. Io avevo 28%. Sì. Lui era tuo a 45 o cosa del genere. Mi ha fatto tuo a che mi ha ucciso. È raro. Tipo pochissimo. Eh, infatti che io me lo piglio. Eh, lo so, ma è raro. È una merda. Ma sì, ma è come se tu facessi una cagata contro un cuccione. Secondo me l'eroe dovrebbe essere preso così. Ho preso davvero pianta. No, è l'altro ho preso davvero pianta. Vediamo. E... Machiaco strani. Dove trovarli. A 69% Wack entra sempre. Toglie due stock insieme. Questi sono fatti. E lì non ci si può neanche dire niente perché... 6%. Sì. Buon eh. Questa con il botto... Non voglio sembrare biased, però... Spero che Cafferman vini. Io anche perché... Oddio. Bello. Perché pianta representation è sempre... Perché pianta representation è sempre... Ma sta andando molto bene, guarda come lo vuole. È buono. Adesso bisogna vedere se non fa delle boiate, Cazzo. Uuuu. Ottimo. Pure il Perry, fortissimo. Uuuu. Ottimo. 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 Toglio, altissimo. Lui ha la palla, quindi... Eh, se ci fai in cazzo tutti i main di castro hanno una palla. Nooo, però l'ha sbagliato qua, la... Si è lasciato prendere la mano. Anche perché ha perso tutto il vantaggio. Sì. Bravo qua, poi. Sì, è pure... Dai, dai. Stai scherzando. No, è ancora scantata. Non sta... non sta... non sta... non sta... non sta... non sta... Perché so che le piante lo usano abbastanza. Quindi non andavano a poter il danno che fa, ma... Perché ti coprano. Sì, perché non ci vuoi andare dentro. Vuoi prendere questa? Perché puoi fare... Bravo! Nooo! Ho sbagliato la punish. E' caro. No, lo vediamo. Adesso ti stai usando il gioco secondo me più a capire posizione. Eh, sì, bravo. Sì, dovrà... dovrà cambiare. Eh, ma non può più? Non so proprio... No, no, dico adattarsi. Ah, sì. Bello. Bello. Ecco qua... Oh, io fa paura. Fa troppo... ma molto spesso queste downbiche... Ci sta, però... Sì, non ne fa spesso. Sì, non ne fa spesso. Qua è buono. Ecco, lo fa di nuovo. Beh, uno può anche dire... A range. Sì, però ci potrebbe utilizzare quel tempo molto spesso. Uuuu! Non fa una punish piccosa cosa. Molto buono. Non è bastato. Non è bastato. Non è bastato. Non è bastato. Ehi, no. Ma... Ehi, no. Adesso è a rischio di wonderwing. Deve stare attento. Questa situazione, devo dire che sta continuando a ribaltarsi. Cioè, è pieno di... Ah, vai a trovare. ...aumenti clash. Un po' di nuovo. Uuuuh. Uh, sì... Un po' di nuovo. Un po' di nuovo. Deve stare molto più attento in landingcast. Sì, sì. Eeeh! E non basta! Non basta! Ok, adesso killa. Ok, adesso... Ok, la caricata. Potrebbe essere l'ultima stock di entrambi nel torneo. No, non è che potrebbe... Eh. Perché sono gli user, adesso. Beh, però non stacchiamo di pieno. Eeeeee... Cioè, la sprocca ancora fa questa cosa la gambetta. Sì, che funziona. Sì. Anche se preferite li capisco un attimo gli user di perché... E' meglio averlo che un mare coca. Non lo farò stesso. Vedi? Mio Dio. Lui... Mio Dio. Vediamo, vediamo. Sono... Sono in. Un po' lo sta giocando molto più bene in programma. Sì. Sta lì per la connessione social. Ho finito gli usi di Wandermin. È... È... È ora di perdere? Ho finito gli usi di Wandermin. No, ma adesso c'ha... Ecco. Lui ha preso. Restrow. Oh... Ottima cosa al smash. Che perciò... Che ha la smash ma... Va bene perché... Sì, sì. L'ha fatto bene però. È una buona mossa. Questo è uno dei flash più spaventoni. Nooo... Se andava giù. Eh, col back air... Forse l'aveva benvenuto. Non è detto. Comunque è dangerous. Non ci sono. Però... Il back air lancia troppo... Oh... Bella questa... Cover. Nooo... 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 Per pochissimo. Peccato, peccato. È stato un bel set. È stato un bel set. Ma Castro ha vinto. Castro ha vinto moralmente. Senza seek. Per poco 420 Per poco 420